Amici di Youtube, un buonasera dal vostro Lino Juventus Allora, non fate altro che pensare sempre la stessa cosa, voglio un Non fate altro che pensare sempre la stessa cosa, l'allenatore, 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 l'allenatore Allora, ora ve lo dico io l'allenatore Punto uno Voi, alcuni juventini, parecchi juventini di voi Dicevano che l'importante è che se ne va allegri può venire chiunque Voi dicevate, l'importante è che se ne va allegri può venire chiunque E ora comincio a vedere che Sarri ne va va buono, Inzaghi ne va buono, Casperini ne va buono e Murigni ne va buono Allora, voi avete già problemi mentali Ma questo non lo dimostrate adesso che snobbate questi allenatori Confermate di avere problemi mentali, sapete da quando? Da quando avete sparato merda su Allegri Da quando avete sparato merda su Allegri Lì voi avete dimostrato Che tenete che Tenete cervella Avete buttato merda sull'allenatore più vincente della Juventus Uno dei più vincenti della Juventus Avete buttato merda E voi adesso Quelli che dicevano A noi basta che se ne va allegri Poi venire chi vuoi Da squadra Vincere tutto quanto E ora cominciano a snobbare quello Snobberà quello Snobberà quello Snobberà quello Allora Questione allenatori I giornali Scrivono il fatto di Sarri Agnelli Agnelli andate a Bacu Semplicemente perché ricopre un ruolo Importante nell'UEFA E deve essere presente perché oggi c'era una riunione Sicuramente sarà presente anche Sabato A finalità della Coppa Campione Secondo voi no Una società come la Juventus Che non va a trapassare nessuna notizia Ma manca si è tacito solo Si presenta in prima persona Agnelli Nel giorno della finale Va da Sarri Nel giorno che Sarri si gioca la finale D'Europa League Va lui in prima persona All'albergo suo Dove sta lui Ma voi vi ricordate dove ha formato Dove ha pubblicato a Ronaldo Quando ha preso a Ronaldo Che è andato lui di persona a Madrid E' andato a Madrid a farsi vedere nell'hotel con Ronaldo Vuva vi darò spegnare Vuva vi darò spegnare Vuva credere di farlo E' normale che oggi Agnelli doveva stare là Siccome ricopre un ruolo importante nella UEFA Doveva essere presente alla finale d'Europa League Come sarà sicuramente presente anche alla finale di Coppa dei Campioni Addirittura Stasera Agnelli non guarderà nemmeno la partita Perché è impegnato con questa riunione Ok No che Agnelli chiude là Perché ha da chiudere la trattativa di Sarri Ma può essere una cosa del genere Cioè fino a ora non vanno Non vanno a trapelare nessuna notizia Il giorno della finale di Europa League Agnelli si fa vedere in prima persona Con Sarri E' normale che poi è stato là Sono italiani Ci sta Un saluto Sono amici A quelli valli sono tutti amici Quindi a dire che Agnelli gli ha fatto un nuovo contratto a Sarri E' da psicopatica E' da pazze Questione allenatore Questione allenatore Ci sono Ci sono Delle voci Abbastanza forti A lui non Però che cazzo di nebozzi Tutti un esempio Stesse cose Che dicono Che Guardiola Ha già un pre-contratto Firmato con la Juventus Io Che ho questo canale Non è che io Mi invento le notizie Vengo su Youtube E vi vengo a sparare le stronzate Io Ci sto mettendo la faccia Come i giornali Ci mettono la loro Però c'è una differenza Che i giornali ogni giorno cambiano un nome E' normale Faranno 20 nomi Uno lo azzeccano E poi si faranno i complimenti al giornale Che ha avuto ragione Mentre io Un povero Youtube Che non già Youtuber che non già nemmeno 400 iscritti Ci sta mettendo la faccia Perché riporta delle voci Che gli sono arrivate Che siccome S'erano delle voci infondate Io manco ci mettevo la faccia Perché che cazzo me ne frega a me Che ci metta la faccia C'è queste voci a me Chissà chi me le porta Però siccome ho visto Che con Ronaldo E' andato come doveva andare Voglio essere fiducioso Anche con Guardiola Anche perché Se la Juve ci aveva bloccato Sarri Non si sapeva D'anni a chiudo Sarri Domani si firma Addirittura L'altra volta Un sito della SNAI Diceva che già aveva firmato Già Tutto stronzato Cioè quindi Fin quando non ancora Viene ufficializzato Il nuovo allenatore Io ho queste voci Che mi arrivano Di un Guardiola Alla Juventus Voglio continuarci a credere Poi Se avrò sbagliato Di quali Ma quelli che mi hanno detto Ci vedono che Sono stato stronzato Eh ma poi Ci ho messo la faccia io Ci hanno messo la faccia loro Solo che voi loro Non li conoscete A me Mi state conoscendo E io dico Alla Juventus Ok Hanno avuto ragione Il giornale Però La differenza tra me e i giornali È che io faccio un nome solo E quello è Io mi porto la mia idea Non faccio Oggi Nuvidi Che dicevi Guardiolo Come fanno altri youtuber Oggi dicono Guardiolo Domani dicono Sarri Domani dicono Miano Cioè è normale Che uno Lo devono indovinare È normale Che uno Lo devono indovinare Gli faccio Deci allenatore Un hongar No Quindi io Ad oggi Anche qualcuno su facebook Mi scrive in privato Dice ma sai la gazzetta Ha scritto quello Tutto sport Io i giornali Non li leggo Io purtroppo Dopo il 2006 Dopo Calciopoli Io ho chiuso la carriera Sai di quello Che legge il giornale Per me è morto tutto Dopo Calciopoli Non seguo giornali Non seguo nazionali Non seguo niente Ciò che non è Juve Io non la seguo Quindi Io Mi voglio affidare A queste voci Che vengono da Un ambiente importante Che è già Parecchi giorni Che mi stanno parlando Di un pre-contratto Già firmato Da Guardiola Alla Juventus La Juventus E Guardiola Dovevano lavorare Insieme Su degli obiettivi Di mercato Richiesti Dall'allenatore Si può fare Anche qualche nome Si parla di Gullibali Si parla di Un ritorno di Pogba Si parla di Tenere i guain O prendere i card Dall'Inter Cioè Ci sono anche Dei nomi Cioè Ah può succedere Che Che può succedere Magari Qui stanno formati Poi hanno avuto Problemi Sul Sul mercato Che magari Uno ha fatto una richiesta Quell'altro dice No Io questo non lo so Io la cosa che so Di certo È che Guardiola Ha Un pre Contratto Firmato Con la Juventus E non mi è arrivata Solamente una di voce Ma Un paio Che sono abbastanza Attendibili Quindi Vediamo come va Viviamola giorno per giorno Questa storia Io penso che Ci vorrà Ancora qualche giorno Per Per saperne di più Perché Oggi non si capisce niente Se voi mettete Top Calcio 24 Mettete Sky Sport Ogni giorno cambiano un allenatore Ma ora è uscito di nuovo Murigno Cioè Non lo sanno nemmeno loro Non lo sanno nemmeno loro Quindi Sono voci Allora Come sono voci quelle Sono voci anche quelle che dico io Però io voglio Affidarmi della mia fonte Poi ripeto Se io avrò sbagliato Che sarà annunciato Qualc'altro allenatore E non è che io Sto facendo un pagliaccio Qua che Dici no Mi impendi Di testami E ve li racconto a voi No Io riporto semplicemente Delle voci Che mi arrivano Che Guardiola Avrebbe un Precontratto Con la Juventus Quindi Io fin quando Non vedo che là Abbiamo trovato l'allenatore Voglio credere che Guardiola Sarà il nostro allenatore Poi Se non sarà così A me non mi interessa Chiunque venga Ma anche se dovesse venire Guardiola Combà Anna vince la Coppa dei Campioni Perché chiunque verrà E non vince la Coppa dei Campioni Si può chiamare come vuole Che ha fallito Perché Il resto Allegri l'ha vinto Allegri ha vinto tutto Allegri ci mancava solo La Coppa dei Campioni Quindi Chi verrà Ma ti ha portato La Coppa dei Campioni A casa E non esiste Guardiola Clocchi E Niente Ripeto Io ve lo ridico di nuovo Io spero Che non viene Guardiola Ma viene Clop Perché per me Clop è migliore Di Guardiola Spero Si arriva Guardiola Abbiamo preso comunque Un grandissimo allenatore Cioè Guardiola Clop Sono i grandissimi allenatori Sono quelli che nessuno Pensa mai di prendere Quindi però Se io devo scegliere Tra Guardiola e Clop Io preferirei Clop A me Clop Mi piace da impazzire Già da quando Allenavo Borussia Ad Ort E' un allenatore Chi palla proprio Però Ad oggi Le voci che mi arrivano Io continuo a scrivere Io tutti i giorni Scrivo Dico Allora Ma qua Dicono Sarri Loro mi dicono Che sono tutti Dei pistaggi Che 99,9% Il nuovo allenatore Della Juventus Sarà Guardiola Quindi ragazzi Viviamo insieme Questa avventura Vediamo come andrà Stavrò ragione Io Stavranno ragione Il giornale Cioè non io Io Prima persona Io Per chi mi porta Le notizie Dato che ve le comunico Io dico io Ma non sono io Il protagonista E attenzione Io non mi prendo meriti Perché se sarà Guardiola Non dovete Diciamo dire Che sono stato in gamba Io Ma le voci che mi hanno portato Quindi sono state in gamba Queste persone qua Io faccio da tramite Non loro portano a me Li portano a voi Quindi ragazzi Vedremo come andrà a finire Questa storia Io vi invito A lasciare l'iscrizione Al canale Perché io vedo Che comunque Facciamo le visualizzazioni Ma non ci troviamo Con gli iscritti Quindi qualcuno viene Vedo il video E non si iscrive Non vi costa niente Sulla destra C'è così Iscriviti E basta Non puoi nemmeno Attivare la campanella È uguale L'importante È che lasci l'iscrizione Là Non ti costa niente Quindi ragazzi Io vi abbraccio A tutti Vi ricordo Un'altra cosa Che Vi posso dire Anche un'altra cosa Perché Mi hanno parlato Di Simone Inzaghi al Milan E oggi Sentivo di Simone Inzaghi al Milan Vediamo Vediamo Detto questo Un abbraccio Di nuovo a tutti Potete seguirmi Su Facebook Lino Cannone E Chi ti fa Juve Non perde Ora si fa sapere Mai Ciao 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 Ciao